Si intravede alla fine del lungo periodo di dissesto dell'ex provincia regionale di Siracusa, lo dice il parlamentare Paolo Ficara al termine di un lungo giro di incontri istituzionali con dirigenti e funzionali del Palazzo di Via Roma. Inizia una nuova fase di lavoro su input del MEF. La ragioneria dell'ente potrà contare sull'assistenza dell'UPI, Unione Provincia Italiana, per porre fine al dissesto e chiudere questa brutta pagina. Nelle settimane scorse, con la legge di bilancio, il Governo aveva stanziato ulteriori risorse per allineare il peso del prelievo forzoso a quello delle altre province italiane. L'Onorevole Ficara ha poi verificato lo stato dell'arte degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale, con i fondi messi a disposizione dal MIT. Da poco sono stati appaltati tre cantieri da 800 mila euro ciascuno, per migliorare la sicurezza e la pubblica incolumità lungo l'ex strada statale 114 e vari provinciali della zona nord, centro e sud del territorio siracusano. In via di aggiudicazione, anche il secondo lotto dell'illuminazione della Siracusa a Belvedere, mentre i lavori del primo lotto sono già in corso. Pur con personale ridotto rispetto alle esigenze, ho potuto constatare, dice Ficara, il grande impegno degli uffici dell'ex provincia per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali. Il deputato del Movimento 5 Stelle ha anche raggiunto gli uffici del settore edilizia scolastica per verificare a che punto siano i lavori finanziati dal Ministero dell'Istruzione, in particolare per adeguare gli istituti a fronteggiare il Covid e a garantire un ritorno in classe quanto più sicuro possibile agli studenti delle scuole superiori.